ma la domanda è ma non vedi sono 4.500 pirati ma che cazzo sta comprando ti vedo ti vedo ti vedo si hai le luci sparate in faccia eccolo qua è uscito scale scale sta sparando e non lo vedo non l'ho più visto andare ragazzi vedo lo vedo un contatto dove 21 chilometri non lo so sto scannerizzando se hai il nome non so il nome no il tuo ah la terapia arrivo a farlo vedere questo contatto ok il contatto lo vedo è l'ho più verso la mia ma non lo so non lo so ma la terapia si è si è non vedo vedo un contatto ragazzi 13 km ce lo vedo con le scan non fa una cosa più leggerata volete voler il gun e poi tutto butto giù non fa una cosa più leggerata è un po' è un po' non è un po' è un po' è un po' è un po' Eh sì. Chiamatelo mentre fate il software URSTON e chiamatelo per sempre. Non vedete tutto il resto, non c'è interazione, non si prende, non si prende, non si prende la strada. Cioè tu, se vuoi premete F1, non entra nel mobile classico. A me sì, 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 a me sì. Sì, a me sì, a me sì. Sì. Grazie a tutti.